Controlli tra Solofra e Montoro sul torrente Solofrana a mettere in allerta carabinieri e vigili del fuoco sono stati alcuni cittadini. Per la precisione alcuni giovani del posto che già nei giorni precedenti avevano sollecitato il primo cittadino bianchino a far intervenire la locale polizia municipale ed attivare contestualmente ASL, ARPAC, carabinieri di Montoro e Solofra e vigili del fuoco. Una richiesta è arrivata dopo aver notato nel torrente la presenza di schiuma sospetta e colore nero. Le richieste dei giovani cittadini non sono rimaste inascoltate, sono stati infatti prelevati campioni di acqua a Montoro nel letto del torrente ed a Solofra da una delle condotte per il deflusso delle acque di Piazzale. La gente del posto è stanca di questa situazione, soprattutto le generazioni future non hanno più intenzione di subire la prepotenza di chi senza nessun rispetto per la gente e per l'ambiente continua a far ricorso agli esversamenti illeciti approfittando del giorno o meglio della notte di pioggia. I giovani ora stanno pensando di costituirsi in un comitato civico una scelta motivata, come nel caso della Valle del Sabato, dall'aumento di morti per patologie tumorali, mentre nei prossimi giorni verranno monitorati tutti gli scarichi presenti lungo il torrente partendo dalla fonte. Quelli non censiti saranno prontamente segnalati. I giovani cittadini si promuovono quali sentinelle del proprio territorio, un'iniziativa che lascia ben sperare per il futuro.